Devi partire assolutamente. Le cose al confine si stanno mettendo male per i ribelli. Solo le tue doti di stratega potranno riuscire a cambiare l'esito di questa guerra. La paglia è troppo bassa. Non posso certo accettare. Sai bene che non puoi permetterti di rifiudare. Hai un debito verso di me. E poi... poi non lo facciamo certo per i soldi. Sai bene che lo facciamo per combattere questo impero tiranno e oppressore. E sia. Rimane comunque che il confine è molto lontano. E la strada è irta di pericoli. Non ti preoccupare di questo. Ho già deciso di affidarti come scorta alla mia migliore allieva. Piero di Giada. Grazie maestro. Piero di Giada. Ho sentito dire che il governo ha soldato Volpe Nero per venire in cercaturale. Sono solo dicerie. E non hai paura? Io non ho paura di niente. Ma... e la sua tecnica segreta? Se fosse veramente segreta tu non la conosceresti. Cammina. C'è qualche problema? No. Stavo pensando che sarebbe il luogo perfetto per un agguato. Andiamo. Sono Volpe Nera, terrore errante. Colui che ha sconfitto gli antichi. Colui che ha battuto i sette maestri ninja della montagna. Io, Volpe Nera. Sono stato il generale delle truppe imperiali all'epica battaglia del Fiume Rosso. Il cui nome era diverso prima che il sangue di milioni di soldati macchiasse le sue acque. E io stesso uccisi le mie truppe perché una battaglia può esserci un solo vincitore. Io, Volpe Nera. Fatti da posto. Non è te che voglio piede di Giada. Ma non per questo ne uscirai viva. Preparati a morire. Stai per assaggiare la mia tecnica segretta. A presto. busyee. Ahah! Though ha sp Pinjolo solo qui si raffinand, è sempre p 힘icero l'enviare. Questa è ch沒錯, Grazie a tutti. Ieri, quando ti ho portata qui, eri messa davvero male. Solo grazie alle mie cure sei riuscita a sopravvivere. Hai combattuto contro Volpe Nera. È un avversario molto forte, ma non potevi sconfiggerlo. Grazie a me ci riuscirai. Ho forgiato un amuleto che ti renderà invincibile. La sua tecnica non potrà più niente contro di te, perché l'ho forgiato con il metallo dell'Aeron Pagoda. Tieni, questo è per te. Ma perché mi hai aiutato? Volpe Nera era il mio migliore allievo, il discepolo più promettente. Ma si è votato al mare e perciò va eliminato. Ha ucciso i sette maestri ninja della scuola della montagna e ha anche guidato l'esercito imperiale nella battaglia del fiume rosso. Ha tradito gli ideali dell'Aeron Pagoda e deve morire. Va e uccidilo. Grazie. 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 Capo abbiamo un problema. Parla Donovan. Che succede? Le nostre spie hanno detto che forse Piede Vigiada è ancora viva. Ah, incompetenti! Andate e uccidetela! Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Sì, 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 sì. Non temere, sono qui per salvarti. Attenta, è una trappola! Sei stata brava ad arrivare fino a qui, ma il tuo viaggio ha una sola conclusione. La morte! La ribellione non muore mai! Non puoi niente contro di me. Non è possibile. Il potere dell'Aeron Pagoda! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.